Grande prova di forza per la Promobol Sanitars di Bienno che ottiene una vittoria tonda nella prima gara del girono di ritorno, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C FIPAV. Il Bienno ha vinto con 3-7 a 0 in trasferta ad Arfo Boario Terme contro la US Montecchio, ribaltando il risultato della prima giornata del campionato che era terminata in favore delle ragazze della bassa Valcamonica. Il primo set inizia con Papa, Basalari, Tomasi, Marinoni, Gannar e Piantoni. La gara si assesta su un sostanziale equilibrio fino al 12-12 quando le biennesi staccano e si portano a 3 punti di vantaggio quando le padroni di casa del Montecchio chiamano il primo time out, che però non serve a smuovere la partita. La Promobol prende il largo, arriva a 19 punti tenendo le padroni di casa a 12. Il set termina agevolmente per la Promobol Sanitars che si porta sul 16-25 e mette una prima pietra sulla vittoria della gara. Stesso sestetto in campo per la Promobol Sanitars di Bienno all'inizio del secondo set ma l'equilibrio dura meno. Le ospiti hanno preso le misure delle avversarie e si portano subito sul 5-7 ma non finisce qui. Arriva il 9-9 e la gara si fa viva con un susseguirsi di colpi a vicenda e una rincorsa alla vittoria. Sul 9-11 il Montecchio chiama il primo time out del set per non perdere la concentrazione ma non serve nemmeno questa volta. Il distacco aumenta fino al 13-19 con 6 punti di vantaggio per le ospiti. Una serie di errori per la Promobol riporta però il set sul filo di lana e Taramelli allenatore in prima delle Biennesi chiama due time out a stretto giro prima sul 19-22 e poi sul 21-22. La situazione si stabilizza, le ragazze riprendono grinta e il secondo set vinto per la Promobol che porta il punteggio sul 23-25. Medesimo sestetto all'inizio del terzo set per Promobol che parte subito in vantaggio ma che ha la ragazza del Montecchio alle calcagna. Il 4-6 si trasforma in un 8-11 e poi in un 11-12, momento in cui Gianni Taramelli chiama il primo time out del set. C'è il primo sorpasso della gara con le padrone di casa che si portano sul 14-13 ma la Sanitars non molla e si riprende la gara con un 15-17 al cardiopalma. Arriva subito il pareggio dell'US Montecchio che però cede e si blocca sui 18 punti permettendo alla Promobol di prendere il largo e conquistare il terzo set e la partita sul risultato di 18-25.